I vincenti sono quelli che scelgono in fretta la via da prendere. Sono quelli che guardano attenti a destra e a sinistra nella strada della vita, pronti a trovare qualcosa per terra. Quello che avviene. Perché ogni momento. Ogni momento può essere quello giusto. Saree di finte. Cross. Bullit. Goal. Bellissima azione. Robot Bullit. Mette dentro. Leonardo pronto all'invito in area. Parete in diagonale della Brasiliano. Azione molto bella del Milan. Grazie a tutti. Palla per Gans, buono l'aggancio, salta il portiere, Gans fino in fondo, Gans segna un gran gol da raffinatore d'area di rigore, orecchie al pubblico Maurizio Gans Massaro, bravissimo, lestissimo nel rubar palla, ancora Massaro, 15 metri davanti, solo in area di rigore, la rete di Daniele Massaro Carlo Ancelotti, Ancelotti che va via dopo aver rubato il pallone, nessuno lo ferma e la rete di Ancelotti Match fermo sullo 0-0, poi un lampo squarcia l'area perugina e Kalach può solo guardare la bomba di Rui Costa Parte il tiro cross, rete, Rui Costa, un gol capolavoro Un gol veramente strepitoso, un gol che lui ce l'ha sui piedi Tempismo, prontezza di riflessi e doti acrobatiche non indifferenti Il derby della Madonnina, deciso dalla panchina, grazie a Romano Fogli Stop tra due avversari Controllo e gol A Firenze lo show di Pato Grande chance per Kakà, palla dentro verso Pato, controlla il brasiliano, colpetto, perde la palla, la recupera Pato Milan in vantaggio a Firenze, segna Pato A Firenze lo show di Pato